desktop minore di spent class uguale notification barra spam barella piace al milan e il pagellone del centrocampista gazzetta c'è rixlin copia e bedo copiati potrebbero interessare anche security warning il mercato è appena concluso e gennaro gattuso tutto fa tranne che pensare al prossimo di gennaio ma ieri in conferenza stampa rino ha ammesso che stasera nel cagliari si troverà contro un giocatore che avrebbe preferito avere con sé quest'estate si tratta di nicolo barella tenuto d'occhio ormai da tempo dal milan gattuso ha ammesso che con la vecchia dirigenza il suo nome era saltato fuori per rino barella a grandi margini di miglioramento e può diventare un top a centrocampo anche grazie alla sua duttilità poteva essere una buona riserva al milan anche di lucas biglia per ora invece gattuso dovrà accontentarsi di jose mauri e andrea bertolacci clicca qui per leggere le parole di barella in vista del milan punto esclamativo più più guarda gratis per un mese d'az clicca qui più più scarica la nostra appius barra android clicca qui più scarica la nostra appiusura